Partiti! Epic comunque è deciso nel voler assumere l'iniziativa e la mantiene, Who's Next in giubba rossa col cap nero che emerge in seconda posizione a largo, seguita da Kermanshah, la grigia, poi ancora Sigrefleigas che si fa notare a largo di tutti sopravvanzando mezzo, poi la Dormigliana Zactova, Suravilius, Cernobbio in nero rosa, a ridosso Viaggia Isaias, poi ancora Promise Cape e via via il resto del gruppo, Epic sempre da battistrada ad affrontare la piegata, Who's Next l'immediata inseguitrice, Ravilius che si fa notare all'interno avendo sopravvanzato Sigrefleig a largo Gasquet che avanza gradualmente, la cui scia è presa da Martilzo, poi Cernobbio, questa è la prima linea del gruppo, mentre Epic va a cercare lo steccato molto largo, al suo insegnamento adesso muove con decisione Gasquet, Ravilius e Cernobbio per via interna, ancora in quota Who's Next, poi Martilzo, è ancora in vantaggio Epic, preva a difendersi da Gasquet che lo va ad incalzare adesso, Gasquet che prende sotto tiro Epic, lo supera, sta recuperando da dietro Isaias per le piazze, mentre Gasquet sta allungando nei confronti di Epic, il quale con grosso coraggio prova di maniera in quota, ma il vecchio Gasquet ha preso margine, Epic tuttavia non si dà per vinto e sta cercando di tornare sul rivale, Epic con grosso coraggio ci prova ancora su Gasquet che si difende, Gasquet contro Epic, il quale non vuole sapere, ma Gasquet da vecchio leone riesce a portare la fine in fondo sullo stesso Epic, al terzo Isaias, poi Martilzo, Who's Next, Sigrefle, Cernobbio. Missione compiuta per Gasquet, Gregorio Reina, segno per il signor Verricelli, Gianluca, ai colori e al training.